Agenti del reparto volanti della questura di Foggia hanno tratto in arresto il 52enne Salvatore Contino per evasione e violazioni in materia di ricerche archeologiche di beni culturali. L'uomo è stato sorpreso con un altro individuo in un terreno a Borgo Arpinova mentre utilizzando i metal detector eseguiva la ricerca di reperti archeologici. Alla vista degli agenti i due sono fuggiti a bordo di un'auto. Inseguiti dalla volante sono stati costretti dopo qualche chilometro ad abbandonare la vettura e proseguire la fuga a piedi nei campi. Il Contino però è stato raggiunto e fermato. Nell'auto gli agenti hanno rinvenuto in metal detector utilizzato dal tombarolo. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato accompagnato presso il proprio domicilio. Agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato minorenne di 16 anni Foggiano. Il giovane è stato sorpreso in piazza Puglia mentre cedeva a un coetaneo una dose di hashish. Portato in questura e perquisito, il ragazzo aveva addosso negli slip due stecchette di hashish per 40 grammi di peso e 20 euro in banconote di piccolo taglio. Il sedicenne dopo l'identificazione è stato trasferito al carcere minorile di Bari.